Ho nascosto delle telecamere un po' nascoste all'interno della mia casa perché oggi ignorerò mia madre per le prossime 24 ore Oh, mi rispondi? Ti ho chiesto una cosa? Sto parlando con te? Per iniziare questo scherzo ho chiesto a mia madre il giorno prima di svegliarmi alle 8 perché ho inventato la scusa perché dovevo fare tante cose ed ero veramente molto impugnato quella giornata così posso comunque iniziarla ad ignorare già dalla mattina presto Aspettate, ma che per calde le bolle per svegliare, ma in che senso? Partiamo dalla mattina che mi sono alzato e sono andato in cucina Buongiorno Oggi siamo di buon umore Buongiorno Anuncia una bella giornata E vabbè Io mangerò tutto qui Dove ho un biscottino per addolcerti la giornata? Oh Buon Buon Ma va Di che se ne vuoi? Tengo tutto la lingua Oh Oh Buon Mangiarlo eh Mi scusi Ok Ok Sembra praticamente che si sta accorgendo che la sto ignorando Quindi Aspettiamo che arriva e continuo a ignorarla ancora di più Ma cosa vuoi che a me? Sì Di che ti fai Ma che sei la mattina penso ad angelo Scusa Ragazzino È successo qualcosa? Eh? È successo qualcosa? Oh Sto parlando con te Oh Sto parlando con te e sudro a un rispondi tutte su una cosa mi ha fatto male però mi ha fatto tanto male andiamo in bagno e ci rinchiudiamo lì dentro per vedere fino a quando mia madre si dovrebbe finire di preparare è finito Filippo è finito, tutte le 20 minuti sbrigati e devo finire di prepararmi è finito, non mi rispondi, è tu che apro la porta sono tornato in cucina e ho deciso di fare ancora di più ovvero che inizio ad alzare il volume dal tipo al massimo e fare casino come la copertura è un ampio paragon ma basta ma basta oh no ma no ah ce l'hai la voce perché si è spenta oh mi ha cantato la corrente perché si è spenta mi scusi un'informazione al ragazzino dovrei uscire un attimo qua dice di fare il devasto ovvero che iniziava praticamente a parlare e turlare come un pazzo facendo una finta chiamata con degli amici ciao raga come va? tutto bene? ma che grandi che siete no oggi boh sono solo in casa non faccio nulla e si mi stavo ascoltando che cosalone prima non urlare guarda ricorda che c'è gente giù capito ok dai allora cosa cosa inizio oh smetto di urlare guarda che sto scendo ok ora gioco apro minecraft dai sto uscendo ok starto starto il gioco stacco stacco ok ti stacco io adesso prendere un po' te lo posso staccare ciao ragazzi ok no 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 sto dentro discord tranquillo si si ciao ciao sto scendo ciao ciao ma aspetta sentite qualcuno parlare ma io non sento nessuno raga oh neanche io ma voi sentite qualcuno io non sento nessuno nessuno ok vabbè dai lasciate stare sarà una persona che sta scocciando dai cos'è detto ok va bene e non ho fatta la cuffia e non giocare con una cuffia basta ma no aspettata circa un'ora ho dovuto aspettare mia madre che rientrasse ho lasciato la porta di dietro aperta così poteva entrare senza problemi è successo qualcosa cosa ti ho fatto oh oh mi stai facendo girare adesso veramente capito io non ti ho fatto niente adesso quando rientro a papà glielo dico che sei fatto lo sciocchino tutto il giorno va bene adesso mi stai scocciando adesso sto preparando sto preparando da mangiare oh vieni adesso non mangi niente oggi hai capito oh sei molto arrabbiata qui molto e poi ho deciso di andare a fingere praticamente di registrare un video per poi sperare che mia madre entri e poi rivelare praticamente questo scherzo ciao io sono Fili benvenuti in questo unissimo video oggi andremo a fare un video bellissimo perché andremo a rispondere alle domande che mi avete fatto su Instagram mi raccomando seguitemi su Instagram perché è molto molto importante detto questo andremo a rispondere alla prima domanda ciao Federica mi chiede come sta andando questo periodo sinceramente veramente molto molto bene e mi sto veramente divertendo troppo 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 devo rifarlo mannaggia ok 3 2 1 via ciao io sono Fili è benvenuti in questo unissimo e queste ero 24 ore ignorando mia madre cosa ti hai fatto cosa ti ho sentito bene mi hai ignorato per 24 ore e tu mi stavi registrando si ma sei scemo no come no non si dicono non si dicono e tu ti credi essere stato molto 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 oggi molto molto ma va molto molto io mi sono divertito io no ma basta sta campanella